Buongiorno a tutti e a tutte. Eccoci per il nostro appuntamento La speranza non delude. Oggi il Vangelo racconta un momento di difficoltà e di crisi nella vita di Gesù, nell'incontro con i Suoi paesani e il rifiuto da parte di essi della parola che Gesù rivolge loro e del riconoscimento che essi devono fare di Lui. E Gesù a questo rifiuto risponde facendo riferimento a due episodi della storia di Israele che riguardano l'azione di Dio verso dei pagani e non degli appartenenti al popolo. Ma è proprio il fatto che Gesù ricorra a due episodi del passato per spiegare il presente che mi sembra un elemento importante anche per noi. Qualche tempo fa è uscito un libro intitolato Prigionieri del presente e non prevedeva sicuramente quello che stiamo vivendo e il rischio che tutti avvertiamo e che ci sia solo oggi e che l'informazione e le riflessioni riguardino solo il momento presente senza uno sguardo rivolto al futuro e facciano così avvertire la crisi che già di per sé è pesante e difficile ancora più pesante e difficile. Eppure, se andiamo nel passato, possiamo scoprire tanti episodi in cui delle costrizioni che sono andate al di là della volontà dei singoli e dei popoli hanno prodotto delle dimensioni di straordinaria grandezza. Faccio solo due esempi così diversi fra di loro eppure così simili. Il primo è nella vita della Chiesa. Se non lo conosciamo bene, tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di Ignazio di Loyola che è il fondatore dei Gesuiti. La sua storia comincia da una costrizione fisica perché essendo stato ferito in battaglia deve stare fermo e da lì parte tutta una storia che prosegue anche oggi. E anche un grande scienziato che si trovò in quarantena maturò le sue scoperte all'interno di questo periodo forzato. sia anche per noi questo tempo non un tempo presente e opprimente ma qualche cosa che nella costrizione ci apre a grandi cose nel futuro. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.